Buon sabato caro Dario, bentornato su 105.8 Buongiorno a Ticco, buongiorno a Lisa Ciao Dario, buongiorno a giocare Eh Dario adesso da Dario da grande psicologo allenatore oltre che giocatore Dà la carota dopo il bastone Non hai detto una cosa, Chico? Che all'ultimo minuto hai sbagliato tu un gol davanti alla porta di destra Ah, queste cose non le dice Dario, queste cose se le tiene per sé, capisci? Beh, se quello non sbaglio Dario, praticamente è vero che era un metro dalla porta, vuota Però se quello non sbaglio, che praticamente Siamo che hanno sbagliato il passaggio Ah, no, era proprio sbagliato il passaggio Cioè, ci fosse stato un Dario Marcolino e mi avrebbe messo un cioccolatino solo da spingere in rete Mentre il mio compagno mi ha tirato praticamente più che un passaggio, una bomba Eh ma tu non puoi fare solo i gol che devi spingere in rete, ogni tanto serve anche la giocata Dario sa che lì con un passaggio normale la partita sarebbe conclusa appunto con un pareggio più che meritato Perché poi Dario Marcolino ha trasformato nel suo poker quattro gol in questa partita più assist Poi alla fine forse quello che è risultato decisivo è stato l'ultimo, ovvero un rigore conquistato Dario Marcolino Per quanto mi riguarda molto dubbio, perché il fallo era iniziato fuori aria Insomma, però poi il fascino del fuoriclasse, l'arbitro subito rigore Azione dopo, stesso fallo per noi, iniziato fuori aria L'arbitro si sentiva un po' vero Dario Marcolino rigore subito Strano che non ha espulso pure il nostro giocatore Mentre invece azione dopo, stesso fallo, iniziato fuori aria Secondo me è concluso dentro, a noi una punizione da fuori, dal limite Ma lo so, ma tu sei Enrico Pedone Comunque magari venerdì prossimo ci sarà una rivincita A proposito di rivincita, caro Dario, oggi la fa da padrone questo match, questa sfida Atletico Madrid-Real Madrid Tu ci hai giocato contro, sia Diego Simeone, sia Zinedine Zidane sul campo L'hai vissuti, l'hai visti Non so se ce li puoi anche un pochino decifrare dal punto di vista tecnico Nel senso proprio da allenatori quali sono, quindi i tuoi colleghi Oltre che poi caratteriali Insomma, il tuo identikit di Diego Simeone e di Zinedine Zidane E poi ovviamente anche di Atletico Real, Dario Ma guarda, le situazioni da analizzare sono due diverse La prima è l'uomo, il carattere dell'uomo E il secondo l'allenatore Per quanto riguarda Zidane, l'uomo secondo me è un uomo di poche parole È un po' più introverso rispetto a Zinedine Zidane Però di grande personalità Sai, quando tu hai davanti un giocatore che fa l'allenatore Che ha vinto tutto, che è stato un grande pallone d'oro Anche i giocatori questo passino lo subiscono Infatti si è visto subito che da quando è arrivato Zidane a Real Madrid Mi sembra hanno fatto tipo 11-12 vittorie di fila Non è un caso Non è un caso Per cui dove è riuscito a trovare la chiave? Secondo me Zidane è l'appeal che ha avuto lui sui giocatori E in quello che ha proposto Dall'altra parte l'uomo Ciolo Simeone, grande personalità Uomo di spessore, anche lui di poche parole Però è già più espansivo rispetto secondo me a Zidane Adesso passiamo alla filosofia degli allenatori Allora, adesso va di moda a dire il ciolismo Il ciolismo non è nient'altro secondo me che quello che ha imparato Il Ciolo Simeone giocando in Italia Cioè la quadratura in campo, l'aggressività 4-4-2 Poco lavoro tattico, molto lavoro di pressione Per poi andare sulle ripartenze Ragneri ci ha vinto un campionato Cioè la Premier su queste cose Dall'altra parte invece la filosofia Real Madrid Che si è dovuto Incarnare subito Zidane Senza fatica Perché lui è stato un giocatore del Reale Quindi aveva quella filosofia attraverso il gioco Il palleggio, pallacorta Fase offensiva Quello che mi è piaciuto di Zidane rispetto ai suoi precedenti È che la squadra non è più lunga Larga, ma è una squadra compatta Linea difensiva un po' più alta Cioè stiamo parlando di Un Real che è cambiato È diventato un Real più moderno Un Real più corto Un Real che Sempre la stella di Ronaldo Però sono più giocatori partecipi Al gioco come era prima Prima facevano Tanta fase offensiva Prendevano delle imbarcate Al contrario Adesso è diventata una squadra Che sa stare in campo Premesso questo Ti dico Chicco Ti dico che nella partita secca Il calcio insegna Che può succedere di tutto Nel senso Non è una partita di campionato Che tu puoi ragionare anche Di far 0-0 Ci sono delle dinamiche Che nascono diversamente Sicuramente Chi va in vantaggio Delle due squadre Costringe l'avversario A dover per fortuna A sbilanciarsi E a creare qualcosa Per cercare di rientrare In partita E lì Il cuore della partita E lì Come si sblocca il risultato Diventa il cuore della partita E nel caso Dario come dici giustamente tu Va in vantaggio l'Atletico Più possibilità di portarla A casa La partita Rispetto Al caso in cui Invece Va in vantaggio il Real Cioè Delle due Chi ha più possibilità In caso di vantaggio Guarda In caso di vantaggio Sicuramente l'Atletico Lo porterebbe Sul terreno principale Che è quello di coprire il campo Squadra corta Non lascia spazio agli avversari Li aggrediscono Se l'Atletico va in vantaggio Sicuramente va nella gestione Della partita Che è quella Più normale Dell'Atletico di Madrid Al contrario Probabilmente andasse in vantaggio Il Real Comunque la sua filosofia Di gioco Proverebbe a fare il 2-0 Per farti capire Sì Mentre il Ciolo Sineone Vorrebbe portare a casa L'1-0 Il Real Vorrebbe fare il secondo È un po' quella La dinamica della partita Elisa Sì beh Su tutto Su tutta questa disamina Per carità Nulla da dire Perfetto Ne capisco di sicuro Molto meno A Fox Sports Su Sky Insomma viene apprezzatissimo Seguitissimo Anche solo per questo Insomma Anche non solo per questo Tra pochissimo Io ovviamente vi porterò Invece sulla Lazio Elisa Sì allora Abbiamo parlato di due Tecnici Due squadre Vabbè assolutamente Di livello Una finale Importantissima Due tecnici Insomma Della quale hai giustamente Elencato tutte le peculiarità Però io ti porto Sull'allenatore della Lazio A questo punto Dario Perché è vero che qui ci sono Due top allenatori Però anche la Lazio Deve scegliere Il suo allenatore Tanti tanti nomi Continuano a girare Da Prandelli Ventura Pioli che dovrà comunque Trovare una sistemazione La conferma Di Inzaghi Io non ti chiedo Tanto un nome Quanto Secondo te Insomma C'è un identikit Da fare Per quello che Potrebbe essere Il giusto allenatore Della Lazio Guarda io Elisa L'altra sera Quando c'è stata Quella bella serata Allo stadio olimpico Di padre in figlio Qualcuno mi ha chiesto Io rimango Dalla mia idea Che Per me andava data La chance Simone Ti spiego perché Ha fatto bene E' stato apprezzato Dai giocatori Quello che chiedeva Si è visto sul campo La Lazio ha fatto Un buon finale Di campionato E probabilmente Ripartire con lui Ti trovavi già Un po' di lavoro fatto E anche per lui Era una grande occasione Mi sembra Che anche la gente Lo avesse apprezzato E questo è importante Perché comunque L'abbiamo apprezzato Un po' tutti Guarda le due Diversità Magari Brocchi è andato In un certo modo Invece Simone È andato in un altro modo Mi sembra che lui Con quel lavoro Che ha fatto Si poteva Giocare La riconferma Secondo me È una delle possibilità È ovvio che magari Se il piatto della bilancia Ci può essere Un allenatore esperto Io credo che sia Prandelli Forse quello più vicino Alla Lazio Non so se Possa essere un problema Economico Un problema Legato a qualcos'altro Però Prandelli Ha un buon DNA Stato l'allenatore nazionale Ha fatto 5 anni Alla Fiorentina Dopodiché Eravamo arrivati Io e Sinisa Alla Fiorentina Quindi abbiamo trovato Anche il suo lavoro Fatto sul campo Stiamo parlando di Vedo meno Quella di Ventura Però Ma non perché Non è adatto Perché probabilmente Si dice vale nazionale Quindi Può darsi che sia Una cosa da escludere Però Se oggi Dovresti fare una percentuale Nella mia Nel mio pensiero Di quello che ho visto Fino adesso 70-30 A favore di Simone Inzaghi Cioè io L'avrei confermato Gli avrei dato possibilità Mi sembra di vedere Un Montella Dis Per farvi capire Perfetto Dario Senti A proposito di Tu Di te Tu Simone Inzaghi Che squadra di allenatori Simeone Mancini Mihailovic Mihailovic Nesta adesso Nesta ragazzi Pancaro Almeida Almeida Cioè Crespo è arrivato Qualche 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 Non lo so Se ci vuoi dare Vai Rimaniamo A questo punto Su Dai Senza che Non ti posso Chiedere qualcosa Di ognuno Rimaniamo su Simone Inzaghi Dario E su Dai su Simeone Visto che poi Fino a prova contraria È protagonista Lui Però io sono curioso Anche di Mihailovic Proprio perché Insomma Ha fatto anche lui Il nome poco fa Mihailovic Era comunque Passato Così Era stato uno Dei nomi usciti Nel momento In cui si pensava Un sostituto di Pioli Quindi Anche su Mihailovic Dicci un po' La tua Ma guarda Io ti dico Un contatto Quando noi eravamo a Catania Con Sinibolo 2009 Un contatto Con l'Otito C'era stato Sembrano quelle cose Che magari Se non le fai In quel momento È passato l'attimo Poi non va più in porto Ovviamente Sinisa È un allenatore Ambito In questo momento Via dal Milan Sono passati Due settimane È andato subito Al Torino Di anni di contratto Progetto Cioè È un allenatore Che se te lo devi portare A casa subito Per trovarti All'allenatore Della tua squadra E quindi Il tempo è passato Io non lo so Mi auguro Che magari in futuro Ci possa essere Questa cosa qua Però La vedo difficile Cioè l'attimo È passato L'attimo in cui Secondo me Sinisa Proprio veniva L'attimo È passato E quindi E quindi Erano sette anni fa Praticamente Quello poteva essere L'attimo Poi c'era stato qualcosa Ancora prima Che andasse alla Sampdoria Si faceva il suo nome Anche lì L'attimo è passato Adesso mi viene Da dire Sai Sono quei fidanzamenti Che se non vanno subito Poi alla fine È andata così Dario Simeone Allenatore Quando era il tuo compagno Simone Inzaghi Allenatore Quando eravate compagni Un aneddoto Un qualcosa Che poi Ripensandoci Cioè sì Effettivamente Erano già allenatori Parlo di Simeone Inzaghi Ti dico ovviamente Per la personalità spiccata Quella di Simeone Lo potevi dire Che Poteva diventare Allenatore Leader E poteva gestire Una grande squadra Simone Essendo stato un attaccante Ma ti faccio lo stesso Esempio di Allegri Io ho giocato anche Con Allegri a Cagliari Sì E ti dico E ti dico che Magari l'attaccante Lo vedi diversamente A fare l'allenatore Di solito è più O il difensore centrale O il centrocampista Che Come capacità Vanno a fare L'allenatore Invece loro sono stati bravi Nel cambiamento Che hanno fatto Perché Si Allegri Che magari non pensavi Arrivarsi a questo punto Vedendolo magari Il trequartista Gli piaceva il colpo di tacco Simone Inzaghi Giocava sulla linea Degli avversari Era sempre lì Magari a fare un gol In un certo modo Mi ricordo Quattro gol al Marsiglia In Champions League Sì Ah sì Magari più filosofia Devo dire Tecnica E brillante Magari meno allenatore Vedendoli come in campo Poi dopo La trasformazione La maturazione E Quello che Succede poi Quando diventa allenatore L'ha fatto un bel tiro Inzaghi Inzaghi Ecco perché Secondo me era giusto Ha fatto le sue esperienze Nel settore giovanile E' arrivato in prima squadra Ha dimostrato di essere all'altezza Ecco in tutto ciò Ieri Far bene anche in un club di serie A Anche se poi Anche se poi per esempio Facendo un parallelismo Già uscito fuori Brocchi al Milan Lui all'inizio Prima della sua investitura ufficiale Oppure al momento della sua investitura ufficiale A Milanello Come allenatore Del club rosso-nero Lui ha detto Io poi Non ho problemi a tornare in primavera Quando C'è una differenza sostanziale Cimone L'allenatore della primavera Dora 2-3 anni Brocchi l'ha fatto solo quest'anno Quindi Brocchi investe ancora il suo tempo Inzaghi lo ha già investito Sì 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 Dario e Zidane Da avversario Visto che Non ha magari avuto il piacere Di giocarci insieme Ma contro sì A parte il fenomeno qual era Pallone d'oro Come giustamente ricordato tu In precedenza Ma anche Doti da allenatore Già spiccate Secondo te Di Zidane Ma guarda Zidane è cambiato anche lui Nel tempo E lui Dicevamo di investire il suo tempo Lui è stato nel Real Madrid E ha fatto due anni Lì mi sembra E ha investito il suo tempo Sul diventare Non è facile Non è che esci dal campo E dopo 5 minuti Sei allenatore C'è una trasformazione Che passa attraverso la testa Di un ex calciatore Che è quella di cominciare A pensare da allenatore E non pensare da calciatore Zidane ha fatto Come giocatore All'inizio alla Juve I primi sei mesi Aveva fatto molta fatica Non si era inserito Tanto è vero Che aveva avuto anche Un po' di critiche Al contrario Dopo quei sei mesi lì È diventato un giocatore Fantastico Lui aveva un pregio Secondo me Clamoroso Che le cose difficili Li faceva diventare facili E cosa vuol dire Praticamente Quando si trovava in mezzo A quattro giocatori Magari Con due tocchi Riusciva a uscire Oppure faceva la cosa giusta Al momento giusto Pressato Scaricava Quando aveva spazio Biblava Calciava di destra Di sinistra In modo quasi uguale E poi era la posizione Che lui andava a prendere Cioè lui andava a mettersi Sempre alle spalle Dei centrocampisti Dove Nella linea difensiva Nei centrocampisti Riuscivano a uscire E da lì cominciava A trasformare l'azione Dario Da due volte campione D'Europa Under 21 Quindi con la nazionale azzurro 92-94 Il prossimo allenatore Invece della nazionale A Quindi maggiore Dovrebbe essere Ventura Quello della Tra virgolette Tuo Under 21 Cannavaro Ci dici la tua Su questa quindi doppia Possibile Investitura Ventura Cannavaro Per l'Italia Quando arriva La ventata nuova E la ventata Dei cambi Ognuno porta Le persone Di cui si figa In questo momento Ti dico Ventura in nazionale Io lo vedo bene Mi sembra un po' Il fatto di coronare qualcosa Anche come uomo Come allenatore Ventura È il più È l'allenatore Che ha più panchine Di tutti in serie A Tipo 700 E qualcosa Adesso il numero preciso Non lo so Stiamo parlando Di un uomo Esperto Magari non ha Non ha fatto Le coppe Non ha fatto Cioè il calcio Internazionale Ma ha talmente Tante esperienze Che sembra quasi Che non gli serva Questa esperienza Io lo vedo bene Perché nella gestione Nel far giudare le squadre Nel sapere entrare Nei giocatori Cioè la definizione Che ho sempre dato Io di Ventura È che è un allenatore Che migliora il prodotto Cioè un giocatore Nelle sue squadre È arrivato Grezzo Va via Che lo vogliono le grandi squadre Cioè lì c'è la mano Dell'allenatore Sì Devo andare adesso Perché mi inizia una partita Ah Strano Sempre in campo Stavolta a Puzzle Stavolta a Puzzle Siedi in bocca al lupo Grazie di in bocca al lupo A Dario Marcolin Grazie di in bocca al lupo